Fratelli e sorelle, sono tornato con una cazza di bomba che vi distruggerà brutalmente le vostre casse. Viva! Fili! Sono stato in studio con Ardell, Poligenze e Ricordelli e abbiamo prodotto una nuova bomba biotecnica assolutamente spaziale portatoriale. Si chiama Viva! Fili! In onore del reciso vale delle vie Fili. Dai, cazzo, non passo a venire. Dai, cazzo, non passo a bomba. Dai, cazzo, non passo a bomba. Dio, non passo a ormai. Dai, cazzo, non passo a 미cdi. Dai, cazzo, non passo so skills. Dai, cazzo, non passo a bombe. Dai, cazzo, non passo a bomba. Viva la figlia del Minkiela, perché... Viva la figlia del Minkiela. 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 e la troia, saltate come normali e tropezate i vostri canoni al cielo. La cazzo, la pasta porca troia di bomba, proprio adesso, porca, no, e poi io vi qui, vi dà la figlia. La cazzo, la cazzo, la cazzo. La cazzo, la cazzo, la cazzo, la cazzo. La cazzo, la cazzo, la cazzo. Ah, il chiamo.